Un saluto a tutti gli amici di Macintosh, oggi vi mostreremo come installare la tastiera di Android 4.2 Jelly Bean Allora scarichiamo il file zip dall'articolo del nostro sito oppure dalla descrizione del video su YouTube Dovete sapere che questa tastiera è la Gesture Typing che consente di mettere delle parole complete senza dover toccare ogni singola lettera sulla tastiera Tutto quello che dovete fare è scorrere il dito sulle lettere necessarie a formare la parola desiderata e poi lo sollevate quando avete finito Questo sistema è interessante perché introduce delle funzionalità di Swipe che in passato erano già presenti sulle altre tastiere Però la tastiera di Google e la tastiera Swipe erano sempre due cose distinte Adesso sono state fuse in un'unica tastiera per garantire un avanzato sistema di predizione della parola successiva Andiamo ad installarlo Utilizziamo Root Explorer perché ha già integrate delle funzionalità per estrarre i file compressi In questo caso file zip Estraiamo la pk Lo installiamo Noi già l'abbiamo installato precedentemente Quindi voi lo installate La tastiera è installata però non è stata ancora applicata Quindi se andiamo su una pagina web Proviamo ad utilizzarla Esce la tastiera di Samsung Adesso andiamo in impostazioni Lingua e inserimento Vediamo che compare la tastiera di Android Spuntiamo Per attivarla Cambiamo quella predefinita in quella di Android Adesso vediamo se funziona Sì Già è comparsa la nostra tastiera Proviamo ad utilizzare questa funzione Ecco che la predizione ha già funzionato prima di completarla Parola Lasciamo il dito E la parola già viene digitata nella sua completezza Come avete visto è molto facile poterla utilizzare Ci possono essere delle controindicazioni Il sistema che stiamo utilizzando è Android Jelly Bean E può darsi che in altri sistemi Samsung Soprattutto altri device che non sono Samsung Questo APK potrebbe benissimo non funzionare Quindi se avete problemi Contattateci Vedremo di poterli risolvere Questo è tutto Un saluto a tutti Alla prossima Alla prossima